Messaggio di Miguel Gotor, Assessore alla Cultura di Roma Capitale In occasione del meeting Remind Roma Capitale del Turismo, della Cultura e dell'Economia Sostenibile, desidero porgere un saluto e un vivo apprezzamento per l'iniziativa di Remind Filiera Immobiliare. Il mio impegno personale della Giunta guidata dal Sindaco Roberto Gualtieri, di cui faccio parte, è finalizzato a creare nella Capitale sinergie e occasioni di crescita in questi ambiti culturali di estrema importanza. Non soltanto perché usciamo da un'emergenza sanitaria che ha profondamente inciso nel tessuto sociale della città, ma anche perché ci avviamo verso importanti appuntamenti quali quelli del Giubileo 2025 e dell'Expo 2030, che richiedono un forte e rinnovato impegno. L'occasione offerta dai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza non può andare disattesa e deve costituire una concreta occasione di rilancio per tutta la nostra città. È opportuno creare in questo contesto una interazione tra i temi legati al turismo e alla cultura, in una unità di intenti con tutte le forze vive del tessuto urbano, rilanciando la centralità di Roma nel mondo per attrarre fasce sempre più consistenti di flussi turistici. Occorre offrire una dimensione della Capitale più vivace e aperta al mondo, valorizzando al contempo le enormi potenzialità culturali, forse ancora oggi nascoste e oscurate. Questo vuol dire anche, in ambito turistico e culturale, cercare l'apporto di energie private che possano dialogare e cooperare con le istituzioni su progetti e future iniziative, in un rapporto virtuoso tra pubblico e privato, con l'ausilio di buone pratiche amministrative e non solo. Dialogare col territorio e con le associazioni, creare reti tra le biblioteche e le strutture culturali nei quartieri, puntare su organici progetti di rigenerazione urbana che a Roma non sono stati portati avanti negli anni precedenti, ridefinire gli spazi museali per un utilizzo migliore degli stessi musei attraverso la creazione di nuovi percorsi turistici. Molto ci aspetta. L'occasione offerta dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è irripetibili e costituerà un volano per tutta la città. Sarà utile in tal senso semplificare, razionalizzare e snellire ITER, percorsi e procedimenti burocratici, favorendo al contempo la massima trasparenza, permettendo così a imprese e aziende del settore culturale di accedere con facilità a erogazioni e contributi a risorse pubbliche e private. La cultura quindi come polo attrattivo di investimenti e risorse, capace di produrre ricchezza riconoscendone in pieno l'identità di servizio pubblico essenziale. Una visione strategica che individui nella cultura a Roma una vera opportunità per raccogliere le grandi sfide che abbiamo davanti. Con queste premesse voglio ringraziare Remind, il Presidente Paolo Crisafi, il Direttore Area Cultura, la Soprano e Caterina Bacanova, per il loro impegno a dialogare costantemente sulle tematiche oggetto del convegno odierno per il bene comune della nostra città. Miguel Gotor, Assessore alla Cultura di Roma Capitale